La nostra richiesta di vedere riconosciute le diocesi abruzzesi come soggetti attuatori è giuridicamente legittima e operativamente corretta perché la stessa titolarità è stata attribuita alle chiese delle Marche dell'Umbria e dell'Emilia-Romagna colpite da analoghe calamità naturali. Dopo giorni di silenzio, la CEAM, la Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana, interviene sull'inchiesta della magistratura aquilana per la ricostruzione degli edifici di culto del capoluogo di regione colpito dal sisma il 6 aprile 2009. La CEAM a questo proposito, in una lettera aperta, esprime apprezzamento e fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura, ma si dice anche persuasa che Monsignor D'Ercole, ex vescovo ausiliario di L'Aquila, incaricato di seguire l'iter procedurale, abbia sempre operato in buona fede e animato da spirito di servizio. Insieme a Papa Francesco continua ancora la lettera firmata dal presidente della CEAM, Monsignor Valentinetti, condanniamo ogni forma di corruzione e affermiamo la volontà alla trasparenza e alla dedizione che non ammette complicità con il male. La CEAM ribadisce dunque la volontà di prendere parte alle decisioni che riguardano la ricostruzione delle chiese come soggetti attuatori, ma afferma con forza anche di voler rinunciare all'assegnazione degli incarichi e alla gestione diretta dei finanziamenti distanziati, come anche delle successive cantierizzazioni e a questo proposito i vescovi chiedono l'introduzione di una norma che preveda la possibilità di attivare specifiche convenzioni con altri enti, come ad esempio il provveditorato alle opere pubbliche, la direzione regionale beni artistici e ambientali o il comune per assegnare a loro la gestione dei fondi erogati e degli appalti. Nella lettera aperta la CEAM prende anche in considerazione l'ipotesi che la richiesta di diventare soggetti attuatori non venga approvata, caso in cui ritiene urgente e indispensabile studiare nuovi percorsi normativi più adeguati e articolati di quelli attuali, auspicando che vengano varati al più presto dispositivi di legge idonei a consentire una rapida e trasparente ricostruzione degli edifici sacri di proprietà delle diocesi, che costituiscono un prezioso patrimonio identitario, come anche fondamentali centri di aggregazione e luoghi di interesse turistico-culturale.